Dopo le immagini che hanno mostrato Fede Zemano nella mano con una ragazza a Monte Carlo, arriva un altro video che confermerebbe il rapporto molto stretto tra il rapper e la donna che era con lui, dopo le immagini che hanno mostrato a diffonderlo Questo è l'account Instagram di Dillinger News che, a corredo delle immagini dei due ripresi vicini di spalle e poi stretti in un abbraccio nella penombra di una discoteca, racconta il a diffonderlo Dopo un districato cammino alla ricerca della donna ideale per colmare la voragine che Chiara Ferragni ha lasciato, Fede Zemano sembrerebbe aver trovato quella giusta Garancia Ute e, si le Dopo un districato cammino alla ricerca della donna ideale per colmare la voragine che Chiara Ferragni ha lasciato, Fede Zemano Poi il sito aggiunge dettagli sull'identità della donna, una modella francese, classe 2004, appartenente all'alta società, ricca, che frequenta esclusivamente la Milano Non a caso è stato proprio Leonardo del Vecchio a presentare la bellissima Garancia al nostro triste e solo Federico E da quel momento le cose sembrerebbero andare a go Questo video, il primo che mostra Fede Zemano in atteggiamenti intimi con una donna diversa dalla moglie Chiara Ferragni Arriva a poche ore da un altro video inedito di tutt'altro contenuto, quello del PES Questo video, il primo che mostra Fede Zemano in atteggiamenti intimi con una donna diversa dalla moglie Chiara Ferragni Fede Zemano, intanto, continua a essere indagato per Rissa nonostante l'accordo transattivo per cui il personal trainer rinuncerà a eventuali azioni penali nei suoi confronti